Sto fa un sussidetto a Mario e alla sua fiola ed è chiantato a te cinema i figli di nessuno con Amedeo Nazari e cinema è pure. Lui è prima zona pure del castello e quando chi ha tornato sopra la salita lei la svolta da secca e ha detto un ha finito da la terca di strada. Alla grazia l'ho pare tanto non so usare mieva ad un che stasceva lei a bura un che era morto con ero una gran massa e la gente. Va, te ne vedi tu usare mie quelle che è molto e poche. Usare mie le loro e anche a me è sfruttato tutto. Mottria però non era più nessuno. Alla porta di Sint, sempre una porta di Cesena, la porta dei santi. qui era una donna, la porta dei santi, che la notte l'hai pensata in segni un che ruggiva. ero un che era morto, usc'lo amanteva e c'era chi aveva da lì il che era morto. E lui Lì boiava del freddo tra mezzo a l'acqua. Un, due, tre notti. Lì insugneva sempre. E lo cos'lamenteva. Lì ha lasciato paura. Ma non sapeva che cosa poteva fare. Onde... Inizia a fare i lavori via la porta decente. Che solucava la strada. Qua dalla porta vi era una fontana. E c'era lì. Che sotto vi era un topo.